Cosa è emerso dall'incontro di oggi con i vertici della società? L'incontro con l'amministratore delegato e con il socio di minoranza, abbiamo cercato di fare il punto alla situazione, ma ho chiesto formalmente all'amministratore di avere un incontro entro la settimana prossima, cosa che peraltro ho formalizzato poco fa, per avere contezza delle esposizioni societarie, capire se c'è volontà di continuare, dare continuità a questa società. E ho chiesto ovviamente evidenza di quelle che sono le esposizioni, non solo nei confronti dei giocatori, degli sportivi, ma anche dei fornitori, parte di quali sono anconetani, peraltro. Ho avuto anche un incontro con i tifosi, una delegazione della Curva Nord, cosa le hanno detto, cosa le hanno chiesto o ribadito più che altro? Sì, è stata una riunione di circa un'ora e mezzo, mi hanno ribadito non solo la forte delusione, ma la volontà comunque di chiedere chiarezza alla proprietà, io mi sono fatto, vi farò interprete di questo, e da questo punto di vista chiedono che venga rispettata la matricola, che venga rispettata la città, che non ci siano fusioni e che ovviamente ci sia da parte dell'amministrazione una presa di posizione netta, molto ferma. È chiaro che la delusione è tanta, ecco, a fronte a questo abbiamo bisogno di trasparenza, ecco, da parte mia ci sarà il convolgimento passo dopo passo. Gli scenari sono ovviamente determinati dall'esito di quello che la Covizoc pronuncerà il 10, cioè l'undi prossimo, e cioè se verrà dichiarata la non iscrizione dell'Ancona a calcio, verrà chiesto da parte della federazione e al sindaco a quale categoria sottostante c'è intenzione, a parte la città, di iscrivere il nuovo soggetto sportivo o un vecchio. Ecco, bisogna capire e dirimere questo, se ci sarà continuità aziendale e societaria o se ci sarà invece un nuovo soggetto che rappresenterà con i propri marchi, con il logo, la città di Ancona. Ecco, questo sarà un passaggio che si vedremo, vedremo insomma a dichiarire subito la settimana prossima. Signor, sta mantenendo i contatti anche con la federazione perché evidentemente si prova a guardare alla serie D, ma anche con l'imprenditoria locale, da parte sua più volte un appello alle forze sane della città. Che cosa significa questo? Significa innanzitutto mantenere i ranghi ben serrati perché sono situazioni e momenti di grande criticità dove possono chiaramente intromettersi situazioni poco chiare, quindi il riferimento alle forze sane della città è un riferimento voluto, credo che ci sia imprenditoria che si possa impegnare eventualmente a rilevare o a partecipare, ma mi rendo conto che chi vorrà partecipare avrà bisogno di chiarezza, soprattutto nei numeri, in caso si dovesse rilevare una vecchia gestione. Dall'altra, la federazione è stata molto disponibile, estremamente chiara, soprattutto sulle tempistiche e su quelle che saranno le modalità con cui il sindaco, peraltro, in prima persona si dovrà adoperare nel caso di non iscrizione alla serie C. Grazie!